Una domenica di successi, quella appena trascorsa, per il Vasari Arezzo Rugby. Nella penultima giornata di campionato per la categoria Signores, il Vasari Arezzo Rugby vince a piombino contro i mascalzoni del canale con un risultato finale di 19 a 42. In questo modo il Vasari Arezzo Rugby resta saldamente ancorato al secondo posto della classifica con un punto di stacco dalla prima. Le immagini che state vedendo si riferiscono al torneo sempre disputato domenica scorsa a Livorno IMA Lion, un torneo dedicato al settore giovanile. I ragazzi del Vasari Arezzo Rugby si sono piazzati rispettivamente al terzo posto per quello che riguarda la Under 9 e al sesto posto per quello che riguarda l'Under 11.